Yo, c'è tono fronto nei sepenti, all'emolizia che ha di grado elevato Deficit enzimatico di glucosio Rimane molto alto il rischio di intossicazione Le reazioni avverse più frequenti Osservate in seguito all'assunzione Di tachipina sono, oh sì sono, sono Diarrea e altolina sono, oh sì Diarrea e altolino Addominali, ma noi siamo criminali Non ci frega niente delle contrincazioni Vieni a pagarci le cauzioni Ossipedi siamo criminali Ossipedi siamo criminali L'utilizzo dell'atacchipina è controindicato In caso di persensibilità al principio attivo Rimane molto alto il rischio di intossicazione Le reazioni anche se più frequenti Osservate in seguito all'assunzione I tachipina sono, si sono Di arretori addominali Ma noi siamo criminali Magari avremo delle elezioni Vieni a pagarci le cauzioni Oh sì, perché siamo criminali Oh sì, perché siamo criminali